Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Ieri, nel giorno del venerdì santo, ci sono state la celebrazione della Passione del Signore nel Santuario della Divina Misericordia in Piazza Sacro Cuore a Pescara e la processione del Cristo morto per le vie del centro cittadino della città di Pescara, seguita e trasmessa dalla nostra emittente. Forti le parole dell'Arcivescovo Socialenza Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha ricordato il sacrificio del Cristo ma ha anche invitato al termine della processione a non chiudersi nelle piccole realtà, delle nostre piccole situazioni, delle nostre piccole anche comunità parrocchiali, ma ad aprire il cuore a Cristo, ad aprire il cuore all'amore. L'Arcivescovo ha poi ricordato quelli che ha definito anche alcuni peccati sociali, in particolar modo le guerre per l'approvvigionamento dell'acqua e ha invitato invece a guardare comunque con speranza al Signore che ha detto è sempre ricco di misericordia per quanto grandi possano essere le nostre colpe. E' morto ieri pomeriggio all'ospedale civile di Pescara Don Ermete Palombo il sacerdote, malato da tempo, era nato a Serra Monacesca nel dicembre del 1928. Dopo l'ordinazione sacerdotale il 26 giugno 1953 e un periodo da vice parroco a San Cetteo fu nominato nel 1955 parroco di Torre dei Passeri, comunità che ha servito fino al 1970 prima di trasferirsi a Penne come Abate Mitrato e successivamente a Pescara nella comunità di Santa Lucia in Via Tirino. Negli ultimi anni, nonostante gli acciacchi e l'età, ha continuato a mettersi a servizio della diocesi e della chiesa come canonico della cattedrale e vicario parrocchiale della parrocchia della Beata Vergine Maria Regina della Pace in Pescara. Nella stessa chiesa di Via Raffaello si svolgerà domani, domenica 1 aprile alle ore 16.30 e le funerale in una cappella della Regina della Pace è stata allestita già da ieri sera la Camera Ardente. La tradizionale veglia pasquale del sabato santo, diversamente dagli scorsi anni, sarà preseduta da Socellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne alle ore 23 presso la parrocchia di Sant'Antonio da Padova a Montesilvano. Domenica la liturgia di Pasqua sarà celebrata dall'arcivescovo da prima in carcere alle ore 10 e poi alle 11.15 nella cattedrale di San Cetteo dove il presule celebrerà anche alcuni battesimi concludendo con la messa vespertina che verrà celebrata alle ore 18.30 nella chiesa di San Domenico a Penne. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3.18 di questa mattina con epicentro 7 km ad est dell'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ma al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose. Una replica di magnitudo 2 è seguita 12 minuti dopo la prima scossa. Il capoluogo abruzzese e la sua provincia erano stati colpiti già il 6 aprile 2009 dal terremoto di magnitudo 6.3 che causò oltre 300 morti ed enormi danni. L'ASCOM Abruzzo scrive al prefetto di Chieti per esprimere grande preoccupazione sulle gravi vicissitudini di questi giorni. Il direttivo provinciale dell'Associazione Commercio Turismo Servizi si è riunito con urgenza dietro sollecitazioni di tanti operatori del settore commercio turismo artigianato che vedono con molta preoccupazione l'evolversi di atti delinquenziali e quindi la diminuzione con limiti preoccupanti della sicurezza dei cittadini e degli operatori economici. L'Associazione chiede alla luce degli ultimi avvenimenti con rapina di una gioielleria, rapina ferimento di un gestore di carburanti, rapina e taglio di un dito di un commerciante di prodotti alimentari, oltre alla riunione del Comitato Provinciale della Sicurezza e Ordine Pubblico, l'aumento del personale di polizia, carabinieri e guardia di finanza sul territorio. Gli operatori, conclude la lettera, come sempre saranno vigili a segnalare alle autorità movimenti e azioni di mani intenzionati. Ieri a Pescara la firma dell'intesa fra Comune e Rete Ferroviaria Italiana, un accordo parte integrante della riqualificazione delle aree di risulta mediante la realizzazione del parco centrale e la riorganizzazione dei servizi insediati nella stazione di Pescara Centrale. Alla conferenza, svoltasi contestualmente per illustrare il protocollo, hanno partecipato il sindaco Alessandrini, il suo vice Blasioli, con delega per l'area di risulta, mentre per le ferrovie c'erano Giulio Del Vasto, direttore compartimentale di Rete Ferroviaria Italiana e l'amministratore delegato Sara Venturoni, oltre ai dirigenti e ai tecnici dei settori comunali di competenza. Oggi è sabato santo, 31 marzo, la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione episcopale a Sua Eccellenza Monsignore Francesco Cuccaresi, arcivescovo emerito di Pescara Penne, e buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Padre Costante Baron, che celebreranno la ricorrenza domani, e buon compleanno a Don Cleto Panaccio, che festeggerà la ricorrenza sempre domani. E prima delle previsioni del tempo, ricordiamo dunque gli appuntamenti con l'arcivescovo di Pescara Penne e Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, che presiederà la tradizionale veglia pasquale del sabato santo alle ore 23 presso la parrocchia di Sant'Antonio di Padova a Montesilvano. Domenica la liturgia di Pasqua verrà celebrata dall'arcivescovo di Pescara Penne da prima in carcere alle ore 10 e poi alle 11.15 nella cattedrale di San Cetteo, dove il presule celebrerà anche alcuni battesimi. L'arcivescovo concluderà poi con la messa vespertina che verrà celebrata alle ore 18.30 nella chiesa di San Domenico a Penne. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso al mattino e coperto nel resto della giornata con temperature da 11 a 19 gradi e 20 moderati. E nelle zone interne cielo nuvoloso fino alle ore centrali, pioggia nel pomeriggio e nelle prime ore della sera. E cielo molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 9 a 19 gradi e 20 moderati. Domani si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà mattino, temporale in tarda mattinata, pioggia nel primo pomeriggio, cielo coperto nel resto del pomeriggio e sereno in serata con temperature da 10 a 14 gradi e 20 moderati. E nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino, pioggia dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, cielo nuvoloso nel tardo pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 9 a 13 gradi e 20 da deboli a moderati. Lunedì si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 9 a 16 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo sereno fino alle ore centrali, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, nuvoloso nel tardo pomeriggio e sereno in serata con temperature da 10 a 17 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso oggi e quasi calmo domani. E con queste previsioni del tempo noi ci salutiamo dalla direzione, dalla redazione, dalla regia, da tutti i collaboratori di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Giungano a voi tutti i più sentiti auguri di una Santa Pasqua. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.